quando voi allora eccoci qua buonasera a tutte e a tutti e grazie per essere intervenuti nuovamente questa nostra quinta lezione che arriva un po a metà del percorso come avrete letto c'è stata anche un molto molto interessante articolo un'indagine diciamo giornalistica che ha condotto l'avanti facendo un po un sondaggio tra gli studenti di questa scuola e quindi ovviamente io a nome di tutta la scuola ringrazio coloro che hanno speso delle belle parole di commento rispetto alla nostra iniziativa e quindi questo ci dà anche ulteriore entusiasmo per migliorarci per fare sempre meglio e speriamo che la seconda parte di questo ciclo di lezioni sia eh all'altezza delle vostre aspettative e possa confermare i vostri giudizi positivi eh oggi abbiamo con noi un ospite che oserei dire d'eccezione perché è uno se non vado errato è la prima donna tanto che partecipa eh come relatore mi chiedo conforto a Di Martino ma mi sembra che è la prima donna e quindi già questo è un fatto importante in secondo luogo è una eh presenza che ci proviene direttamente dall'Europa e quindi possiamo dire potremmo dire al termine di questa lezione che ce lo chiede l'Europa perché ce lo dice ce lo dirà direttamente e la dottoressa Bernardini che eh ovviamente oltre a essere una mia cara amica è soprattutto dottore di ricerca in diritto costituzionale dell'anno comparato ha svolto numerosi incarichi eh negli organi istituzionali e parlamentari e al momento ricopre il ruolo di chief advisor presso il committee of economic and monetary affairs del Parlamento europeo che è una sorta diciamo poi ci dirà meglio ilenia di commissione eh che si occupa degli affari economici e finanziari del Parlamento europeo e quindi l'occasione e la sua professionalità è gradita per eh invitarla a tenere una lezione sul tema che è di più grande attualità siamo stati bravi e anche fortunati nella collocazione temporale di questa lezione perché come sapete il trenta aprile è scaduto il termine per la presentazione dei progetti dei singoli paesi da inviare eh alle istituzioni europee oggi siamo al cinque di maggio e quindi siamo perfettamente in linea anche noi abbiamo rispettato i tempi e soprattutto eh la dottoressa Bernardini potrà svolgere una lezione avendo eh dei documenti che sono definitivi per quanto riguarda la parte almeno di programmazione dell'Unione Europea. Sono certo che questa sarà per voi una lezione molto interessante non solo perché in linea con lo spirito della nostra scuola intende fornire quegli elementi di carattere pratico quella cassetta degli attrezzi che è utile per i giovani e anche per gli amministratori ma soprattutto perché eh la dottoressa Bernardini si è fatta annunciare con una serie di slide che vi proietterà eh questa sera e che poi metteremo come di consueto a disposizione di tutti voi unitamente alla registrazione di questa lezione sulla pagina YouTube del partito. Dicevo saranno slide che io ho avuto il privilegio di poter vedere in anteprima e eh non vi voglio anticipare nulla non voglio fare spoiler per essere diciamo in voca con il periodo. Quello che però vi posso dire ci tengo a dirlo che la ringrazio veramente di cuore non solo per la disponibilità a partecipare ma anche per il contributo molto approfondito di carattere tecnico che ci darà e che io ho visionato attraverso queste slide e queste slide per l'appunto saranno secondo me molto utili a coloro che occupano già ruoli di carattere amministrativo negli enti locali o comunque a coloro che fanno politica che potranno pregiarsi di parlare di un tema così importante ma poco conosciuto come il recovery plan con dovizia di particolare. Detto ciò lascio la parola a Elenia Bernardini non prima di aver salutato nuovamente il professore Alessandro Gigliotti che ovviamente ascolterà la lezione della dottoressa Bernardini e quindi è autorizzato a intervenire quando vuole. Grazie e la parola a Elenia bene. Grazie Vincenzo, grazie a tutti voi della scuola che mi avete invitato e veramente ho accettato con grandissimo piacere e troppo troppo lusinghe nella tua presentazione non dovevi. Io spero di darvi un oggi innanzitutto un'infarinatura generale di quello che cos'è il recovery plan perché spesso è uno diciamo un pacchetto di strumenti abbastanza composito e quindi alcune volte anche in televisione insomma si fa un po' di confusione quindi io capisco che per una persona che non è addetta al lavoro è difficile da comprendere bene e anche per esempio noi stessi abbiamo avuto insomma delle difficoltà all'inizio a capire. Scusa un attimo, c'è qualcuno, Paolo sta facendo la condivisione dello schermo, se la vuoto direi, l'abbia fatto io. Ok perdonami vai. A posto, ritrovo. Siamo risolti. Non c'è problema e quindi insomma volevo, vorrei potervi dare un attimino una panoramica generale senza cercare di annoiarvi troppo con i dettagli tecnici perché sicuramente in televisione avete sentito parlare di Next Generation, della Bay, del MES e quindi capire che cosa sono magari un po' più nel dettaglio e dove si fanno a collocare perché fa parte tutto di un grande pacchetto che è quello del recovery plan. Poi vorrei spiegarvi un po' più nel dettaglio, per quanto tempo ce lo possa consentire, che cosa è il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, che cosa è e come diciamo l'abbiamo strutturato come Paese Italia che appunto come ha detto Vincenzo abbiamo appena presentato alla commissione perché la scadenza era il 30 aprile e quindi ci siamo trovati stamattina è arrivato e diciamo la versione definitiva e quindi ci siamo collocati anche bene temporalmente perché fino adesso abbiamo lavorato sempre con le bozze e poi alla fine darvi una piccola infarinatura di quello che c'è riguardo agli enti locali nel nostro piano. Quindi diciamo le slide poi soprattutto come ha detto Vincenzo serviranno a coloro che già sono all'interno delle pubbliche amministrazioni, almeno spero saranno utili per capire che cosa c'è, che cosa vi dovete aspettare e per magari eventualmente monitorare i vari diciamo provvedimenti che usciranno dalle camere o vari input che vi verranno dal dal ministero. Allora per quanto riguarda la prima parte, che cos'è il recovery plan? Sappiamo tutto che il recovery plan è il programma lanciato dalla Commissione Europea per far fronte alla alla crisi dovuta alla pandemia del covid, lasciando stare le stime di decrescita del PIL e le incerte stime di ripresa che ovviamente conosciamo tutti. Vi dico di che cosa è composto, il recovery plan è composto. Allora mandi la prima slide. Luigi? vai ancora? Eccola qua, eccola qua. Questi sono gli strumenti del recovery plan. Allora lo so è in inglese, però insomma abbastanza, poi dopo ci sono delle spiegazioni e quindi è abbastanza comprensibile. Da Next Generation UE, che costa di 750 miliardi, da SURE, da 100 miliardi, dal ISM, di 100 miliardi, dalla Banca Europea degli investimenti, che mette 240 miliardi e tutto questo per una risposta fiscale comprensiva di 1290 miliardi, che si affianca ad una risposta monetaria proveniente dalla BCE di 1350 miliardi. Quindi l'Europa che cosa fa? Da un lato cerca di aumentare lo stimolo fiscale e dall'altro, attraverso ovviamente l'intervento della BCE, cerca di aiutare non tanto l'economia, perché ovviamente la ripresa deve essere, deve partire ancora, ma soprattutto di aiutare gli stati nella loro azione fiscale, che assustamente deve essere espansiva in questo periodo. Quindi gli stati devono spendere, non è più il tempo dell'austerità oppure dei risparmi sulla spesa pubblica. attraverso un'immissione di 1350 miliardi di euro, che la BCE ha immesso sui mercati e poi vedremo come. Mi mandi avanti la slide, per favore, grazie. Allora, di Next Generation E, parleremo dopo perché Next Generation E si tratta di una serie di regolamenti dell'Unione Europea, appunto di 750 miliardi, da cui diciamo proviene anche il nostro piano nazionale di recupero e resilienza, per intenderci i famosi 209 miliardi. E quello lo lasciamo un attimino da parte perché è un po' più complesso e si lega comunque al piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi lo affronteremo dopo. Per esplicitarvi in maniera più semplice possibile e breve gli strumenti che abbiamo visto prima, partiamo dal shore, sicuramente l'avrete sentito parlare, si tratta di 100 miliardi di prestiti che la Commissione Europea mette sul tavolo per gli Stati membri e come potete vedere, appunto, mi ho scritto nelle slide, si tratta di back-to-back loans, vuol dire che la Commissione Europea va sul mercato, raccoglie i capitali, quindi raccoglie questi 100 miliardi e li presta a sua volta, facendo semplicemente un passamano, agli Stati membri che ne fanno richiesta, agli stessi interessi. Quindi la Commissione fa soltanto da tramite. Questi soldi hanno un vincolo, sono destinati ovviamente ad mitigare i rischi della disoccupazione, quindi vengono utilizzati tutti per ammortizzatori sociali, infatti noi in Italia ci dovremmo pagare la cassa integrazione, comunque sono stati stanziati per pagarci le cassa integrazione e tutti quanti quegli strumenti che servono all'ammortizzazione sociale in caso di ovviamente disoccupazione oppure altri problemi legati al mondo del lavoro. Allora abbiamo detto che la Commissione è il tramite, perché la Commissione fa da tramite? Perché la Commissione ha un rating maggiore e quindi vuol dire che può raccogliere soldi sul mercato ha degli interessi più favorevoli, perché ha una fiducia maggiore dei mercati. Se noi l'avessimo fatto da soli come Italia, perché lo possiamo fare tranquillamente attraverso il Dipartimento del Tesoro, cosa che normalmente facciamo, avremmo pagato un interesse più alto e quindi anche se l'accordo tra il MEF e la Commissione è segretato e non penso che io riuscirò mai a vederlo, così neanche voi, sappiamo per certo che comunque è conveniente. Slide per favore Luigi. Allora, questo è l'altro grande, super dibattuto strumento del recovery, il messo sanitario. Ovviamente lo conoscete tutti perché ne hanno parlato in Italia in particolare per questioni politiche fino allo sfinimento. L'unica cosa che volevo sottolinearvi per quanto riguarda il messo sanitario è che anche il messo ovviamente fa parte della risposta fiscale dell'Europa. Quindi ci sono insomma questi 200 miliardi di supporto temporaneo per il 2020-2022 in prestiti che non soggiacciono alle stesse condizionalità che ha il messo normale, perché attraverso l'accordo insomma dell'European Council, dell'Eurogruppo e ovviamente del board del messo, si è stabilito che non dovesse avere in questo caso i prestiti, non dovessero avere alcuna condizionalità se non quella di essere utilizzati per spese sanitarie direttamente o indirettamente legate al Covid. Sappiamo che l'Italia ovviamente non ha ceduto a questo tipo di prestito privilegiato. È lo stesso principio del SURE, quindi noi prendiamo in prestito soldi che sono stati presi in prestito in questo caso però dal MES che è un organismo non è un ente, non è un istituzione dell'Unione Europea, non è la commissione, fa in parte parte della costruzione europea però è intergovernamental, quindi è al di fuori dell'Unione Europea, anche se in alcuni casi diciamo ovviamente gli attori coincidono, però in ogni modo si tratta di un trattato diverso, quindi siamo fuori dai trattati dell'Unione Europea. In questo caso sarebbe stato ovviamente il MES a prendere i soldi in prestito dai mercati, ma non che mi risulti nessun altro paese dell'Unione Europea attualmente ha fatto richiesta per questi soldi perché hanno tutti quanti preferito accedere ai soldi del Next Generation Way e ai soldi di Shure, però comunque quei soldi sono ancora lì, evidentemente se qualcuno ne avrà bisogno si potranno utilizzare. Slide Luigi, grazie. Questa invece è la risposta monetaria della BCE, in gergo viene chiamato PEP, perché è un Pandemic Emergency Purchase Program, è un programma temporaneo e attraverso cui la BCE compra sul mercato secondario, perché la BCE non può comprare sul mercato primario i titoli di debito emessi dagli stati. Non può comprare sul mercato primario che vuol dire? Vuol dire che se noi vogliamo raccogliere dei soldi sui mercati non possiamo vendere i nostri titoli direttamente alla BCE, li venderemo ad altre banche o ad altri attori, altri investitori, a cui poi la banca centrale a sua volta comprerà i nostri titoli e quindi vuol dire in una seconda fase, questo vuol dire semplicemente sul mercato secondario, questo è stabilito dai trattati e quindi diciamo non c'è altro modo di agire da parte della BCE. In ogni modo la BCE ha messo sul tavolo in primo tempo 750 miliardi e che poi se ne sono aggiunti 600 miliardi per un totale di 1350 miliardi di euro che, devo essere sincera, fino adesso sono quelli che ci hanno fatto un po' respirare perché come sapete i soldi di Next Generation E e tra poco vi spiegherò perché non sono ancora arrivati agli stati membri e nel frattempo ovviamente gli stati hanno fatto molto debito per sostenere lo stimolo fiscale di risposta alla crisi. Per fare debito ovviamente si va sui mercati, si raccolgono i capitali sui mercati e la BCE, attraverso l'intervento della BCE ovviamente si possono ottenere degli interessi più favorevoli e quindi si spende alla fine meno per quanto poi ci sarà da restituire il debito. La BCE si è resa disponibile non solo ultimamente ma da subito a mantenere il programma fino a quando sarà necessario, quindi per il momento è previsto terminare alla fine di giugno, però la Guard ha più volte dichiarato che comunque fino a quando sarà necessario la BCE continuerà ad intervenire e a comprare titoli sul mercato secondario per sostenere lo sforzo degli stati membri. Questo perché nella scorsa crisi finanziaria del 2007-2009 lo stimolo bancario della BCE si è arrestato abbastanza presto e questo è stato riconosciuto un'unanimamente in Europa da tutti come un grandissimo sbaglio e che ha fatto sì che per alcuni paesi come il nostro la crisi si fosse poi protratta per diversi anni perché come sapete ovviamente noi abbiamo impiegato diversi anni per uscire dalla crisi precedente e forse non eravamo neanche del tutto fuori quando c'è arrivata la crisi dovuta alla pandemia Covid. Slide, grazie. Grazie. Allora, questi sono i regolamenti e questa diciamo è la parte un po' più teorica, un po' più complicata però vediamo se ne riusciamo a semplificarla e venirne a capo. Quando vi ho parlato all'inizio degli strumenti delle recovery plan e vi ho pronunciato lo strumento della Next Generation, Next Generation che cos'è? Next Generation è un programma lanciato tra maggio e luglio dello scorso anno dalla Commissione con cui la Commissione mette a disposizione degli stati 750 miliardi di euro, 750 miliardi di euro di cui una parte di prestiti e una parte di sovvenzioni e i prestiti funzionano esattamente come lo quindi come il programma per gli ammortizzatori sociali. La Commissione prende in prestito dal mercato le risorse che poi a sua volta dà in prestito agli stati membri e gli stati membri ovviamente devono ripagare il prestito alla Commissione agli stessi interessi che sono stati applicati alla Commissione. Questi 750 miliardi sono però distribuiti in diversi regolamenti che sono diciamo le leggi tra virgolette che di Gigliotti mi passa questa questa piccola concessione, sono i provvedimenti legislativi d'eccellenza europea. I regolamenti sappiamo che sono direttamente applicabili quindi non hanno bisogno di di essere recepiti all'interno della normativa dello dello Stato membro ed è per questo che appunto la Commissione ha optato per lo strumento del regolamento. Quindi Next Generation istanzia questi 750 miliardi attraverso tre due regolamenti e attraverso il suo bilancio. Il primo regolamento è l'RRF che lo vedete qui scritto in in inglese perché poi dopo vi darò anche l'acronimo in italiano e proprio da questo regolamento qui il Recovery and Resilience Facility dispositivo per la ripresa e la resilienza da cui proviene il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza. È questo regolamento che lo che lo prevede, è questo regolamento che lo regola e è attraverso questo regolamento che noi riceveremo i famosi 209 miliardi che poi non sono più 209 miliardi però perché poi dopo sono stati rimodulati però per intenderci mediaticamente sono stati sono quelli lì. Qui si tratta come vi dicevo di sonvenzioni e prestiti per un totale di 672 miliardi. Qui parliamo ancora di prezzi del 2018 perché in Europa si parla sempre di prezzi di quando il provvedimento viene prezzi diciamo a base e poi dopo siccome le procedure sono molto lente e spesso gli accordi arrivano dopo anni ovviamente poi dopo si dovrà aggiustare a prezzi correnti. Quindi a prezzi del 2018 ci sono 672 miliardi sull'RRF. C'è un altro regolamento che forse magari qualcuno di voi conosce, essendo magari amministratore locale, magari ne ha avuto a che fare perché è uno degli strumenti della coesione, che è il React Way, in cui sono previsti sovvenzioni per 47,5 miliardi. E poi ci sono tutta una serie di aumenti dei vari programmi del bilancio settennale europeo che sono esattamente questi che vedete qui Horizon, Europe, Rescue Way, Invest Way, Rural Development. Questo giusto per farvi capire che questi 750 miliardi sono stati trasfusi. Uno, la maggior parte ovviamente nel dispositivo per la ripresa e la resilienza che appunto noi avremo grazie alla presentazione del piano nazionale di ripresa e resilienza che comprende anche i soldi di React Way. E poi dopo sono stati fatti degli aumenti ai vari programmi perché diciamo l'Unione Europea ogni sette anni discute un bilancio, la procedura è lunghissima tra la Commissione e il Parlamento e si arriva all'accordo tra il Parlamento e la Commissione sul bilancio settennale in cui sono previsti tutti quanti i programmi, dal programmi per la scuola fino a tutti quanti i programmi per la coesione, fino ai programmi per la cultura, Erasmus, è tutto lì dentro. È come il nostro bilancio, come la nostra legge di bilancio e ovviamente alcuni soldi sono stati oltre a quelli già previsti, da Next Genere Shue sono stati presi altri soldi appunto per essere trasfusi nel bilancio dell'Unione Europea. Da dove vengono questi soldi, questi 750 miliardi? Perché qui stiamo parlando appunto di di quelli. La Commissione Europea li prenderà in prestito dai mercati, li prenderà tutti in prestito, anche quelli che a noi saranno dati come prestiti. La Commissione attraverso la garanzia data dal proprio bilancio settennale, la cui discussione appunto come vi ho detto si è chiusa a dicembre. La Commissione dà la garanzia al suo bilancio settennale e prenderà in prestito sui mercati questi 750 miliardi di euro e ovviamente una parte li restituirà perché ovviamente gli stati stessi saranno a restituire i propri prestiti. L'altra parte che invece la Commissione ha dato agli stati come sovvenzione, che quindi gli stati non restituiranno, saranno restituiti attraverso le risorse proprie. Per farvela breve, le risorse proprie sono delle entrate che vanno a rimpinguare il bilancio dell'Unione Europea e che sono normalmente costituite dai contributi degli stati membri, da una parte delle entrate che gli stati incassano dall'IVA e per arrivare alla cifra di 750 miliardi, perché ovviamente i contributi e l'IVA sono le risorse proprie standard dell'Unione Europea, sono i soldi con cui l'Unione Europea si finanzia e sono le risorse standard. Questi 750 miliardi in più da qualche parte l'Unione Europea doveva prenderle i soldi e quindi si è proceduti alla decisione di introdurre nuove risorse proprie che sono una serie di tasse doganali o anche tasse di tipo fiscale, per esempio sulle imprese digitali, che l'Unione Europea incasserà direttamente. Si parla quindi di una tassa sulle imprese digitali, una tassa anche sulla plastica, se ne parla sicuramente l'avete sentito, e poi di una serie di misure per livellare l'aliquota delle imprese in tutta Europa e quindi una parte di questa aliquota base dovrebbe andare all'Europa e poi una serie di meccanismi sull'emissione di carbonio, sull'utilizzo delle emissioni di carbonio e sulle emissioni in generale, che è molto complicato, non vi voglio tediare adesso su questo, che equivarrebbe a una tassa doganale, però ancora non è stato deciso niente. Ovviamente la garanzia l'Unione Europea ce la doveva avere e quindi in qualche modo una soluzione doveva essere trovata. Allora, con questo diciamo che abbiamo finito la prima parte e quindi spero di avervi dato un infarinatore generale su che cosa è il recovery plan. Adesso ci andiamo ad occupare più precisamente di che cosa, esatto, grazie Luigi, di che cosa è il nostro PNRR. Allora, come vi dicevo io, esatto, grazie, come vi dicevo il PNRR è il piano che contiene gli investimenti e le riforme che ogni Stato membro, su base volontaria, ha presentato alla Commissione per accedere ai fondi e ai prestiti distanziati dal regolamento RRF e dal regolamento REACT-2E, quindi per accedere alle sovvenzioni ai prestiti. Ovviamente il regolamento RRF stabilisce tutta una serie di regole a cui il piano si deve conformare, da come deve essere scritto, agli interventi che ci devono essere all'interno, a tutta la governanza del piano, l'interlocuzione tra lo Stato, tra gli Stati membri e la Commissione. La cosa più importante è che in generale, diciamo, i piani che vengono presentati dagli Stati membri devono essere conformi alle raccomandazioni specifiche per Paese. Le raccomandazioni specifiche per Paese sono delle raccomandazioni che annualmente la Commissione indirizza agli Stati membri che fanno parte dell'area Euro e non, affinché gli Stati membri si impegnino, non sono vincolanti, affinché gli Stati membri si impegnino all'attuazione di determinate riforme o investimenti che possono riguardare i più svariati settori, quindi dalle pensioni fino alla giustizia, dal distesso etrogeologico fino alla gestione di rifiuti. Sicuramente avete sentito parlare perché non si parla sempre della riforma Fornero che è stata voluta dalla Commissione Europea o dal fatto che comunque la Commissione Europea ci richiede in continuazione la riforma della giustizia, soprattutto del processo civile, perché ovviamente in alcuni casi è imbarazzante per la farigionicità e per la lunghezza dei processi. Il fatto che i piani debbano essere conformi alle raccomandazioni specifiche per Paese è obbligatorio, in particolare le raccomandazioni specifiche per Paese 2019-2020. 2019 perché comunque sono delle raccomandazioni specifiche ritenute ancora standard, quando non eravamo ancora in crisi e quindi ci sono tutte quante le raccomandazioni che la Commissione Europea riteneva di fare in un'epoca di regime ordinario. quelle del 2020 perché ovviamente si era già in una fase di crisi e quindi si ritiene e contengano già dei suggerimenti per superare la crisi e accelerare la ripresa. e quindi noi il 30 aprile, come tutti gli altri Paesi europei che l'hanno fatto, tutti i maggiori Paesi europei hanno presentato i piani, Germania, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Grecia, noi, l'Olanda, mi sembra anche di sì, buona parte dei Paesi dell'Est, quindi tra tutti, diciamo, la maggior parte dei Paesi degli Stati membri hanno scelto questo strumento Next Generation Way, quindi, piuttosto che il Messa Sanitario. Slide Luigi, grazie. Allora, questo era un po', questo diciamo è un po' quello che l'Europa ha stabilito su come debba essere il piano e su quanto, su quante risorse possono essere, sono state messe sul tavolo. Allora, sappiamo che abbiamo presentato il piano entro il 30 aprile, adesso che cosa succede? La Commissione deve fare la sua valutazione perché, come vi dicevo, il regolamento stabilisce una serie di condizionalità. Io adesso vi ho riportato quella principale, che sarebbe essere conforme alle raccomandazioni specifiche per Paese e ce n'è un'altra che riguarda appunto i pilastri, quindi nel regolamento è riportato che i piani nazionali devono essere in linea con le seguenti sei aree politiche o sei pilastri ed è obbligatorio. Quindi i piani nazionali devono essere, devono prevedere una transizione verde, una transizione digitale e per questo ci sono anche degli specifici target di spesa. La transizione verde deve essere al 37%, quindi ogni Stato deve spendere il 37% delle risorse che sono state assegnate per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e della neutralità climatica. Il 20% invece deve essere speso per la transizione digitale e inoltre i piani nazionali devono stimolare la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ovviamente e devono aumentare la coesione sociale e territoriale e noi sappiamo benissimo quanto ne abbiamo bisogno in Italia, essendo metà del nostro Paese facente parte delle regioni della coesione europea tutto il meridione e poi ovviamente deve stimolare la resilienza economica senza dimenticare le riforme sanitarie o comunque incentivi o tutti gli investimenti che il settore sanitario dopo questa dura prova a cui ci ha sottoposto il Covid dovrebbe essere sottoposto. Per quanto riguarda le risorse in totale ci sono 312 miliardi di euro a prezzi del 2018 come vi dicevo in sovvenzioni e 360 miliardi a prezzi del 2018 in prestiti. Ovviamente questo è il budget per tutti gli Stati membri, ad ogni Stato membro poi è stato assegnato un totale di risorse e poi vi dirò quanto è stato assegnato all'Italia in base ad un complesso calcolo basato sul PIL inverso alla popolazione, in base alla decrescita del PIL che c'è stato nel 2019 al tasso di disoccupazione e il calcolo è molto complicato e ovviamente cambia anche perché il 70% di tutti i 600 ed oltre miliardi sono stati calcolati in un modo e il 30% diciamo siccome si era ancora in una fase di incertezza quindi non si sapeva di quale altro Stato membro sarebbe stato colpito e come gli Stati membri avrebbero reagito perché non tutti hanno la stessa capacità, noi non abbiamo la stessa capacità fiscale della Germania e quindi anche se la Germania è stata colpita meno in termini assoluti, è stata colpita dopo però ha risposto in maniera più veloce e in maniera molto più importante rispetto a noi perché la Germania non ha dovuto fare tutto il debito che abbiamo dovuto fare noi perché avevamo già una riserva fiscale importante e quindi diciamo che da questo punto di vista siamo stati anche tra virgolette fortunati perché nel momento in cui si è fatto l'accordo a luglio del 2020 quindi dell'anno scorso attualmente noi eravamo lo Stato, noi la Francia e la Spagna che siamo i maggiori beneficiari eravamo gli Stati più colpiti, non che dopo siano cambiate le situazioni più di tanto però comunque l'Italia è stata la maggiore beneficiare anche per questo motivo e quindi diciamo il 30% sarà poi aggiustato. Ma come finirà il nostro debito pubblico? Poi dopo se volete facciamo un piccolo e qui possiamo fare un'altra due lezioni su questo. Poi dopo rispondo alla domanda sul debito pubblico. Ovviamente questo strumento non è a regime, è un strumento temporaneo quindi fino al 2022 possiamo come Stato membro, come Italia, così come gli altri Stati membri possiamo chiedere che ci siano messi a disposizione il 70% delle risorse stanziate e il 30% ci sarà messo a disposizione nel 2023. E invece i prestiti sarà possibile richiederli fino al 31 dicembre del 2023. Ovviamente noi li abbiamo richiesti tutti subito, nel piano nazionale che adesso andiamo a visualizzare noi abbiamo chiesto tutte le sovvenzioni e tutti i prestiti adesso immediatamente, però questi prestiti e queste sovvenzioni, i prestiti neanche, perché il meccanismo è molto simile a quello delle sovvenzioni, ci saranno erogati man mano che noi porteremo a termine i target e le pietre fondamentali delle riforme e degli investimenti che abbiamo previsto nel piano. Quindi nonché nonché adesso questi, in realtà questi soldi ci arrivano in una transola e noi facciamo quello che vogliamo. Abbiamo scritto un piano, lo abbiamo presentato e se qualcuno di voi avrà la curiosità di andarselo a leggere vedrete che per ogni investimento e per ogni riforma c'è scritto quando sarà attuata o implementata e quando deve essere terminata. Anche gli investimenti, anche le infrastrutture, perché se non portiamo questi risultati all'Europa non ci vengono dati gli sborsi, quindi i soldi ci vengono erogati man mano che noi portiamo i risultati. Sì c'è un organo che controlla, è la Commissione che controlla in Europa e la Commissione deve ovviamente sottoporre al Consiglio l'autorizzazione all'esborso. Quindi adesso a che abbiamo presentato il piano la Commissione farà una prima valutazione perché deve verificare che ci siano i pilastri, che ci siano tutti i target di spesa, il digitale, il verde, poi ci sono una serie di altre condizionalità ambientali, quindi tutti quanti gli interventi devono essere neutri, quindi non devono, si dice, do not significant harm, devono sottostare al principio di non danneggiamento ambientale, tutti. E quindi la Commissione controlla che il piano sia conforme al regolamento, dà l'ok e poi il Consiglio adotta la decisione di esecuzione e quindi noi entriamo ufficialmente nel programma. Una volta che siamo entrati nel programma, adesso sì, Luigi mi mandi l'altra slide così vediamo delle risorse. Vincenzo le domande le rispondo man mano o le rispondiamo dopo? le domande le sto prendendo nota io, tranquillo. Come preferisci tu, come preferisci tu, Ilenia? Sì, alla fine, alla fine sì, così non perdo il filo, se per voi va bene. Perfetto, perfetto. E quindi, una volta che siamo entrati nel programma, ogni due volte all'anno, ma in realtà la Commissione si controlla molto più spesso, andiamo dalla Commissione, non dobbiamo presentare le fatture come le presentiamo per esempio per i fondi strutturali di coesione. Andiamo dalla Commissione, diciamo, abbiamo speso questo per lo sviluppo di una regione che rientra nelle regioni di coesione, quindi in qualche parte del mezzogiorno e la Commissione fa l'esborso. No, qui dobbiamo dimostrare che la riforma che volevamo fare l'abbiamo fatta e l'abbiamo anche implementata e messa in atto. Non so se, sembra sottile la differenza, ma non lo è. Cioè, nel senso, per dire, se noi diciamo che vogliamo fare la riforma della PIA, che è scritto nel nostro PNRR, che bisogna fare la riforma della PIA, non basta dire, va bene, la facciamo, non basta fare la legge al Parlamento, bisogna che poi facciamo la legge, il Parlamento l'approvi e poi si facciano tutte quante, tutti i provvedimenti di attuazione necessari, degreti, regolamento, qualsiasi cosa il provvedimento poi eventualmente preveda, affinché venga attuata e sia posta in essere. Così gli investimenti, se noi diciamo alla Commissione che vogliamo fare un investimento.